Armando! Armando! Non c'è! E dove è andato? A Via di Furtina 2001! Ah, che fa? E io ti lavoravo, questa volta buona! Arrivederci! Arrivederci, signor! E grazie ad tutto! Speriamo che almeno era acqua. Non lo fare, pensa ai tuoi figli! Come faranno senza di te? Ma che me frega le mie figli? Io manco sono sposato! Beh, ma pensa al futuro, no! Non essere con il sacco te stesso! Scusi, conosci Armando Ciccarelli? Eccolo là, sta lassù. Armando! Armando! Ah qui! Te possono ammazzarti! Ma lei lo conosce? E come no, eravamo ragazzini insieme se siamo dati un sacco di botte? Ecco, allora guardi, vada su, cerchi di convincerlo lei. A che fa? Ma scende! Sta minacciando di buttassene sotto se non gli diamo lo stipendio anticipato tredicesima compresa. Pensi che lei mi ha assunto oggi? Ah, me pareva! Allora che fa? Sale? Ma alla polizia l'avete chiamata? Non ancora, ma... Ecco, allora guardi, non la chiami che se quello vede una pantera pescappè è capace di cascare sotto davvero. Ce vado io, vado e torno, non vi muovete. L'importante...